Ragazzi è successo un incidente a Chiara Stavamo cominciando a fare un video E Chiara si è fatta veramente, veramente, veramente male Difatti come potete notare abbiamo già disinfettato, fatto un sacco di cose Perché era tutto pronto per cominciare il video E così Adesso vi faremo vedere tra poco appena Chiara si riprenderà e smetterà di piangere Vi faremo vedere cosa si è fatta e soprattutto in che punto Chiara Vuoi farglielo già vedere? Ecco copri perché ragazzi dietro è veramente una cosa sconvolgente Ma mi fa male E lo so amore Allora vi spiego tutto fin dall'inizio Il primo taglietto è stato qua Allora ha cominciato Chiara a farsi male durante questa settimana Fammi vedere bene Ok questo qua sul tallone Circa una settimana fa Chiara si è fatta il primo taglio sul piede Poi il secondo taglio si è fatto questo E poi si è fatta oggi prima di iniziare un video il taglio più grosso che Chiara si era mai fatto E credetemi ragazzi che stiamo pensando se portarla in ospedale Ma non vi mostriamo Ma mi sta goccolando un botto Quindi tienilo chiuso adesso E mamma Giulia vi farà vedere esattamente Chiara dove si è fatta male Perché stavamo cominciando a fare un video in Piscina Perché vi volevamo mostrare la piscina Però ora che vi sto facendo vedere la mamma il punto Mi sono fatta male qua qua e qua Nello stesso punto Allora ragazzi sto portando tutto lo corrente a bordo piscina Perché come vi abbiamo annunciato Chiara si è fatta veramente male Dato che questo video doveva far vedere la piscina Ovviamente abbiamo deciso di farvi vedere comunque la piscina E soprattutto Chiara dove si è fatta male Perché stavamo preparando tutto quanto per farvi vedere Il caso ha voluto che Chiara si facesse male O va tutti i giorni sopra le tavole da legno della piscina E caso ha voluto che si facesse male Quindi ora andiamo a medicare insieme E soprattutto vi faccio vedere il posto dove Chiara si è fatta male Mamma io mi sono guardata Sì E mamma mia E' scappato il cotone e lascialo andare perché sicuramente ora sarà sporco Allora ragazzi intanto vi stavamo preparando come vi dicevo tutto quanto L'esdraio abbiamo aperto la piscina e tutto quanto Ma è successo questo Adesso ve lo mostriamo bene 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 Guardate un po' Difatti adesso non sappiamo che cosa fare Perché si è talmente alzata la pelle che non sappiamo se ci vogliono dei punti Quindi ora vedremo nelle prossime ore e capiremo che cosa fare Chiara la soglia del dolore è tua da 1 a 10 di questa cosa qui Quanto è? Aia Ti fa così tanto male? Sì Diego voglio quello Allora ragazzi nel mentre che Chiara prova a distrarsi un po' con il pongo Cos'è? Una specie di pongo o sabbia cinetica? Che cos'è amore? Sabbia cinetica Ok vi mostro finalmente la piscina e il punto dove Chiara si è fatta male Ok Chiara lo posso mostrare? Prima il punto l'avevo fatto male Sì Allora ragazzi le vedete queste tavole? Ovviamente ci sono all'interno delle viti Le vedete? E abbiamo notato che in una tavola c'era una vite che sporgeva Non ce ne siamo accorti E Chiara si è in pratica agganciata il piedino Difatti abbiamo dovuto chiamare il tecnico che adesso verrà a sistemarla tutta quanta Perché ci sono delle viti E così almeno eviterà poi in futuro di farsi male sia lei che Diego Vedete? È tutto fatto di viti Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo il nostro poster autografato Allora ragazzi però nella disgrazia come vi avevamo detto Volevamo farvi vedere la fantastica piscina aperta Il che papà guardate cosa sta facendo Ecco a voi papà Antonio Che sta cercando di rendere più pulita Più pulita possibile la piscina Ma purtroppo oggi nessuno di noi si potrà tuffare Sapete perché? Perché Chiara si è fatta male Quindi per qualche giorno cercheremo di non fargli toccare con i piedini l'acqua Anche se sarà molto 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 dura Vero papà Antonio? Sì Ecco a voi papà Antonio che sta pulendo Difatti col vento cadono un sacco di cose Guardate ragazzi che piscina Ma vi rendete conto che possiamo fare un sacco di sfide e di challenge? Eh papà Antonio sei pronto? Lancerò mamma Giulia No no aspetta aspetta che mi avvicino per sentire la cavolata che stai dicendo Ti lancerò in piscina Sì ti piacerebbe Aspetta che la pulisco e poi ti lancio Sì ti piacerebbe Anzi se per caso volete che papà Antonio mi butti in piscina Questo video deve arrivare a 50.000 like Quindi cominciate a spolliciare E ragazzi dobbiamo andare da Chiara Nel mentre che andiamo da Chiara voi spolliciate il più possibile E soprattutto se non l'aveste ancora fatto iscriviti al nostro canale E attiva la campanella Chiara amore allora come procede? Ti pulsa ancora il piedino cucciola? Sì mamma Allora facciamo una cosa proviamo a disinfettarlo bene sul divano? Papà no mi brucia me lo sono già infettato prima Sì ma non è che quando ti agiti parlando più veloce le cose ti fanno meno male eh Lo so Ragazzi effettivamente il dolore di Chiara è palpabile Cioè si capisce perché veramente la ferita è brutta brutta Ora quando andremo dentro la disinfetteremo bene 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 di nuovo Metteremo il cerotto E vedremo bene nei dettagli E la zoomiamo bene all'interno che non c'è troppo sole Almeno riusciamo a vederla bene Per capire se effettivamente la pelle si staccherà da solo Dovrò farla rimuovere da qualcuno Quindi da qualche dottore specialista Nel mentre volevo anche farvi vedere il restante della piscina Allora tutto il contorno è fatto di legno come potete notare Poi abbiamo una fantastica scaletta Eccola qua Difatti ha tre gradini La piscina dovrebbe essere un metro e venti barra un metro e trenta Quindi al limite per avere un bagnino all'interno della casa Poi quel robottino che vedete laggiù È il nostro pulitore personale della piscina Poi tutte le sere La piscina potrà essere chiusa con questo telo termico Perché dovete sapere che faremo un sacco di sfide notturne anche Perché la piscina è riscaldabile Quindi si può anche fare calda durante la notte Perché di giorno non ce n'è bisogno Poi ovviamente ci sono tutti l'attrezzatura per rendere la piscina pulita Abbiamo già comprato delle sdraio che ovviamente col vento Più le sistemiamo e più si scombinano Guardate un po' Ok E poi abbiamo Chiara là Allora Chiara che ne dici? Andiamo dentro a vedere bene la tua ferita? Allora andiamo dentro vai Chica E ovviamente ragazzi abbiamo anche la super doccia personale Perché prima di entrare in casa dovremmo essere super lavati Vero cucciola? Col tallone brava piano che non ti fai male di nuovo Ok Mannaggia Chiara ci voleva proprio questa oggi Fammelo un po' vedere la ferita Mamma non ce la faccio Ah vederlo amore è impressionante Hai perfettamente ragione Ma tu sei super forte E ce la farai tantissimo Vuoi che ti porti in braccio? No Ma lo sapevo che tu sei una campionessa Dammi il telefono prima che ti cada Bravissima Dammi la manina Ok Manina di T Il di T Non sei scusami Campionessa Chiara Campionessa Chiara Ah e ovviamente abbiamo messo anche il tavolo da ping pong Ecco non ce l'ha fatta Chiara No che cosa amore? Ti fa male? Non ce la fai? Vabbè ragazzi scusate stacco l'attimo la videocamera Ragazzi la devo portare in braccio perché ha veramente male Quindi entriamo in casa e riaccendo la telecamera Allora ragazzi siamo venuti sul divano e volevo farvi capire bene il dramma della situazione A voi se lo tocchi mamma? Non lo tocco Stai ferma di amore che io non sto toccando nulla Ferma però che così lo facciamo vedere i nostri amici Guardate ragazzi Mamma mia Chiara Sai che cosa succede ogni volta? Perché tu non stai mai 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 ferma e devi sempre ballare Vabbè adesso disinfettiamo E Cosa? No disinfettare no mamma Non sono già disinfettato prima E come mai le mani gialle? Non toccare il divano nuovo con quelle manacce Ti vado a prendere immediatamente Le salviette Per le mani Sono un pochino preoccupata perché come notate il taglio è veramente veramente grande E non so che cosa fare Ora sentirò il medico, gli manderò la foto e vedo lui che cosa mi consiglia di fare Non so se alla fine mi converrà a portare in ospedale A vedere se riescono a mettergli qualche punto Perché il sangue praticamente ha smesso di sanguinare Però non so se quella pellicina dovrà essere rimosso o no Vabbè nel mentre prendiamo le salviette e gliele portiamo Ecco qua le salviettine Chiara sto arrivando con le salviettine Ti serve altro? Sì Che cosa? Che cosa? Cotone? Sì Ah e così lo disinfetti? No E allora cosa ti serve il cotone? Beh per tamponarlo E ma senza disinfettante dentro? No mamma Poco poco No mamma mi brucia Vabbè E ragazzi nel mentre non ci stiamo vedendo il video dei cuginetti che è uscito ieri Quindi se non l'avessi ancora visto vai assolutissimamente a vederlo Quindi clicca qui Ragazzi la mamma sta arrivando con il ghiaccio Sto arrivando con la bottiglia ghiacciata A vedere se Quella lì quella lì mamma C'è il ghiaccio all'interno Sì sì c'è proprio il ghiaccio L'abbiamo lasciata nel freezer e si è congelata Adesso Chiara sta cercando di mettere un po' di ghiaccio E vi faccio vedere se riesce ad andare via le palpitazioni che ha Mamma mia Chiara Odimmi amore Fa male vero? Cosa facciamo? Cosa vuoi che faccio? Dimmi che cosa vuoi che faccio? Non lo so mamma Io non ce la faccio Aspettiamo un'oretta Vuoi che ti do un po' di qualcosa per fartelo passare? No? Non te la toccare amore che è peggio È peggio E ovviamente guardate Diego Non so che cosa sta facendo Diego Di un po' che ti sei spaventato anche tu Dillo No? Dillo che ti sei anche tu spaventato Sdenta dente Te e che ti manca il dentino? Mamma Non mi si ferma più Mi pulsa e mi fa male E mi esce troppo sangue mamma Cosa vuoi fare allora? Cosa devo fare io? Dimmi cosa devo fare Non lo so Mettiamo un po' di acqua disinfettante No Allora no 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 Ma perché? Ma perché c'hai male? Sì mamma Guarda che di infettante con tutto questo sangue Mi fa male No forse almeno A parte che sembra finto Scusami lo so Ti sei fatta male veramente E ti fa veramente male Sì con tutto il sangue colato Mamma 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 Fai qualcosa Mamma Fai qualcosa Non mi chiedere cosa vuoi fare Mamma Fai qualcosa Perché ti fa così male? Mannaggia Mannaggia cosa? Vabbè io intanto ci penso E vedo un attimo cosa possiamo fare Sì papà Papà abbiamo bisogno di Il dottore papà Antonio Gli fa veramente male Cosa possiamo fare? Cosa ci consigli? Gli ho detto a Chiara Se voleva una bacinella Con dell'acqua disinfettante Mi ha detto Nino Cosa consigli tu? Di tagliarlo Lo tagliamo qua in mezzo Tagliamo la caviglia Dai ci stai Non c'è ancora più sangue No passa però il dolore Passa più velocemente Chi non l'avesse ancora visto Abbiamo il nostro nuovo divano E che Chiara non riesce più a camminare Salio e olio Benissimo Lei ora si metterà a leggere un pochettino Nel mentre ti lascio rilassare E tra poco ti verrò a controllare No 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 mamma Mamma Eh devo stare qui? Io voglio fare qualcosa Dimmi che cosa vuoi fare? Vuoi fare il giro Mentre Che giro? Stop E E Allora Nome La tua amica? Elena Città Empoli Animale Elefante Oggetto Elastico Sono troppo un genio Mamma Ora tocca a me Bella Ok Allora tieni qua la telecamera Abcdfg Una città con la T Torino Brava E ora mi devi dire un oggetto con la T Telefono Brava Vabbè facciamo così Io vado a fare due cose di lato No io voglio fare una passeggiata Vuoi fare una passeggiata? E dai vieni Andiamo Puccela Stai arrivando? Ma forse non è meglio che invece di farti una passeggiata ti sdrai e non ti muovi più? No Ma perché devi fare la passeggiata che c'è il piede tutto rotto? Si può sapere perché? Devi muoverti Perché sei una testona Non puoi sdraiarti? Sederti? Stare tranquilla? Chiariamo Facciamo obbligo verità? Mentre passeggiamo? Obbligo verità Dai Tocca a me? Tocca a te Obbligo verità? Obbligo Ti obbligo a stare sdraiata? No Sul prato? Per dieci secondi Quindi In mezzo alle margherite Tu devi stare sdraiata No lì ci sono tante margherite Va bene Allora ce la fai arrivare fino là? No Eh? Ce la fai? Sì ce la faccio sempre Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ora secondo me Ora vediamo Obbligo O verità? Verità E' vero che mi sono fatta male? Sul serio? Assolutamente Sì E soprattutto Ha perso un sacco di sangue Io dico sempre Le verità Obbligo O verità Chiara? Verità Aia Allora Una verità Ti piace più La scuola qua a Roma O quella in Liguria? Qua a Roma Qua a Roma E allora dato che ti sei già fatta male più di una volta questa settimana su questa benedetta piscina Finché non la sistemano tu non ci dovrai più salire E allora facciamo il giro Bravissima Ora tu con me hai fatto la lotta Ora vediamo cosa scegli Obbligo Verità? Verità Voglio che fai una verità su pallino Allena Mamma è vero che pallino ha 12 anni? Esattamente i 12 che li compierà il 6 dicembre Vabbè mamma io mi sono tancata e mi si rompe Brava Siediti che intanto sbirciamo che cosa fa Pava Antonio Sta cercando di far partire il robot della piscina Vabbè ragazzi Io direi che per il dolore di oggi di Chiara Il video termina qua Mamma fai qualcosa ora Cosa devo fare? Fai qualcosa Per non avere più male Fammi un po' vedere ancora bene O mi fai fare O fai qualcosa O lo fai 3 2 1 Non hai più male Mamma dai non si scherza su queste cose Ma non sto scherzando amore Tu dimmi che cosa devo fare e io lo faccio No Non lo so ci penso e poi te lo faccio sapere Vabbè ragazzi Noi vi lasciamo dai pianti di Chiara Perché oggi si è fatta veramente male Dal piedino E ci vediamo nel video di domani Che scoprirete che cosa è successo al piedino di 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 Chiara Dovete sapere che Chiara quando ha dolore Fa la scorbutica Quindi amici miei ci vediamo domani nel prossimo video E Ciao Ciao